7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 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 via, 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 20, destra 2, apri, destra 2, chiude, indicesa, chiude questa, chiude Antonio, chiude, per 5, sta interno e chiude alla fine, chiude e apri, 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 oh, oh, 20, a 4, stai alto, chiude infine, chiude infine, guida pulito Antonio, guida pulito, indi, 2, sale, gas, gas, via, 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 50, a 3, chiude e apri, chiude, apri, via, 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 apri lo sterzo, apri lo sterzo, 50, a 2, indi, 3, apri, a 2, indi, 3, apri, 30, Cicana entra a sinistra In subito A2 chiude A2 chiude Per D3 chiude Apre D3 chiude Apre chiude Via 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 Dobbiamo andare 200 Attento che questa chiude Antonio questa chiude Fammela bene Fammela bene questa Bravo Farisporto lo cordolo Via 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 200 D3 chiude Apre la fine Chiude Apre la fine Chiude Apre Via 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 Fammela A3 apre A3 apre Via 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 20 D2 apre In attenzione subito D2 discesa Chiude 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 Per A5 Chiude Apre alla fine Apre alla fine 30 Attento A4 Chiude alla fine Chiude alla fine questa Troppo 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 Per D2 Sale e chiude Salita via 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 Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Per A3 Chiude Apre Chiude Apre Via 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 Apri Osterzo Via 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 200 A2 A2 per D3 apre A2 per D3 apre D3 apre via 30 Attenzione Shikana entra a sinistra Per A2 Chiude A2 Chiude Via 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 D3 Chiude Apre Apri Apri Via 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 200 Attenzione A1 Chiude Ho sbagliato Ci sei? Sì sì Cordolo Cordolo Via 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 200 D3 chiude Apre alla fine A chiudila dopo Chiudila dopo Via 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 Dobbiamo andare Venti A3 apre A3 apre Per 20 D2 chiude Occhio che questa chiude Per 5 chiude alla fine A5 chiude E apri E apri Osterzo Via 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 Venti Ancora Oh Cazzo Quattro Lunga Per D2 sale D2 sale 50 A3 Chiude Apre Chiude Apre Via via Dobbiamo andare Via 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 200 A2 per D3 Apre A2 per D3 Apre 30 Attenzione Scicane Entra a sinistra Per A2 chiude A2 chiude Via 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 D3 chiude Apre Via 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 200 Aumenta ancora un po' eh Antonio A1 chiude questa eh Occhio alle gomme Occhio alle gomme Occhio alle gomme Via 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 200 D3 chiude Apre Chiudila dopo questa Chiudila dopo Troppo 20 Grande Grande A3 apre A3 apre 20 D2 apre In D2 chiude Occhio questa chiude eh Vai a 5 Chiudi Apre la fine Apri 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 Via 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 30 A1 a4 Chiudi alla fine Stai alto Stai alto Chiudi Chiudi alla fine Chiudi alla fine Chiudi alla fine Oh oh Per D3 Sale Vai via 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 Dobbiamo andare La pista la pista la pista la pista Via 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 In A3 apre Dobbiamo andare Antonio Via 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 In A2 per D3 apre A2 per D3 apre Via 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 30 Il Ciccana entra a sinistra A2 chiude Dobbiamo passarlo qua Se no non lo facciamo più Per D3 chiude Apre Via 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 In attenzione a 1 Chiude Occhio occhio Via 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 200 D3 chiude la fine D3 chiudi la dopo questa Chiudi la dopo Via Chiudi 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 20 In A3 apri 20 22 apri E per D2 Per D2 chiude E per D2 chiude 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 questa Chiude 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 Per D5 Chiude alla fine Questa chiudi la dopo Antonio e poi apri Via 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 30 in A4 stai alto chiudi alla fine bravo bravo in D2 sale D2 sale via 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 apri usa la pista usa la pista via via chiude apri chiudi apri via via 200 in A2 chiude per D3 occhio grande via 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 30 in Cicane entra a sinistra per A2 chiude A2 chiude D3 chiude apri apri subito e via 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 200 in attenzione A1 chiude questa chiude Antonio occhio sempre attento alle gomme via 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 200 in D3 chiude alla fine D3 chiudila alla fine chiudila chiudila via 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 20 per A3 apri via 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 dobbiamo passarlo in D2 A stai alto qua che questa chiude D2 chiude in A5 chiudila alla fine chiudila 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 poi via 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 lascialo andare lascialo andare via 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 in A4 stai alto chiudila alla fine chiudila 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 scala una marcia in D2 sale D2 sale via 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 usa la pista usa la pista usa la pista via 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 in A3 chiude apri dobbiamo andare via 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 200 in A2 per D3 apri A2 per D3 apri 30 30 in Ciccana entra sinistra A2 chiude A2 chiude via 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 c'è la A1 chiude via Ina, 5, apri, apri in scesa, vai, vai, apri, 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 via, 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 20, Ina, 4, chiude, infine, chiudila, 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 per D2 sale, D2 sale, via, 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 tutta la pista, 50, Ina, 3, chiude, apre, via, 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 dobbiamo andare, via, 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 200, Ina, 1, per D3, apri, dobbiamo uscire, eh, 30, Cicana entra a sinistra, per 20, a 5, lunga, lunga, stai alto, stai alto, via, 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 dobbiamo andare, via, 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 Fina, 3, giù, 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 Dove! Vià, 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 vià! Vai, 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 vai! ate